La neve in Sila c'è per fortuna e richiama turisti da oltre regione anche tanti semplici visitatori del fine settimana. All'Orica, grazie anche alla straordinaria suggestione del lago Arvo parzialmente ghiacciato, gli estimatori dell'altopiano silano non mancano e affollano gli impianti di risalita che sono perfettamente funzionanti. Nonostante le temperature ben sotto lo zero anche di giorno lo svago e il divertimento sono assicurati per grandi e piccini e ce n'è davvero per tutti i gusti e per tutte le attitudini sportive e così anche a Camigliatello la meta che richiama di più i cosentini visto che è la più vicina alla città. Anche qui il manto nevoso e la suggestione dei luoghi costituiscono in questi giorni una grande attrazione e fino a quando la luce di diurna lo permette ci si diverte in mezzo alla neve. Segno che la presenza di strutture aperte e funzionanti insieme alle ricchezze proprie del territorio possono fare la differenza e calamitare l'attenzione di migliaia di persone desiderose di fruire delle nostre montagne. Così si creano indotti virtuosi e anche da qui passa quello sviluppo economico che tanto inseguiamo da decenni.